Un clima teso nella casa del grande fratello. Negli ultimi giorni la casa del grande fratello è stata teatro di scompiglio e tensioni, in particolare dopo l'ingresso di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Questi nuovi concorrenti hanno portato un'aria di conflitto, specialmente per come Shaila ha interagito con Javier, suscitando malumori tra gli inquilini e i fan del programma. Le reazioni sui social dimostrano che il pubblico non vede di buon occhio il comportamento dell'ex velina, contribuendo a un clima di crescente disagio. Le parole di Enzo Paolo Turchi Enzo Paolo Turchi, noto coreografo e marito di Carmen Russo, ha espresso il suo disappunto riguardo alla situazione attuale nella casa. Durante una serata di sfogo ha commentato le azioni di Lorenzo e Shaila, definendole come una messa in scena. Le sue parole sono state chiare. Se fanno queste cose per il gioco, ok, ma sembrano così plateali e un po' finte. Turchi ha sottolineato come il suo desiderio di autenticità venga messo a dura prova da comportamenti che sembrano più orientati a creare spettacolo che a costruire relazioni genuine. La decisione di lasciare il reality, il malcontento di Turchi, è culminato in una dichiarazione forte e chiara. Non mi piace questa situazione, me ne vado. Questa affermazione ha scosso gli altri concorrenti e ha sollevato interrogativi tra i fan del programma. La sua frustrazione è rivolta non solo verso i nuovi arrivati, ma anche verso le dinamiche di amicizie per convenienza che sembrano prevalere nella casa. Enzo Paolo ha espresso il desiderio di intraprendere un percorso diverso, lontano da ciò che percepisce come finzione e superficialità. Le aspettative future. Ora la domanda che tutti si pongono è se Turchi seguirà il suo impulso e lascerà il programma o se troverà il modo di esprimere il suo disagio durante una delle prossime puntate, magari con l'aiuto di Alfonso Signorini. La situazione è in continua evoluzione e i fan del Grande Fratello attendono con ansia di vedere come si svilupperanno gli eventi. La tensione nella casa è palpabile e il futuro di Enzo Paolo Turchi rimane incerto.